Una maglia per farsi distinguere, per portare addosso nel rione, il messaggio che una seconda opportunità è possibile. Le indosseranno i cinque e in futuro sei ex detenuti che hanno sposato a Scampia il progetto di legalità del giuroca Gianni Maddaloni per il reinserimento nella società e nel mondo lavorativo. Un'opportunità che ora vede la partnership della Banca di Credito Cooperativo di Napoli che ha donato a questi giovani 2000 euro per permettergli di trascorrere un Natale più sereno. Un primo passo verso un protocollo di intesa più ampio in cui l'ente si sostituirà in pratica allo Stato facendosi carico di un indennizzo per quelli che possiamo chiamare i ragazzi di Maddaloni mensile, come spiega Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Partiamo da oggi con questo piccolo sostegno, una donazione che la Banca offre per un Natale migliore, un Natale leggermente più tranquillo per i nostri concittadini del quartiere Scampia che da oggi possono contare su un sodalizio formato dallo sport, dalla legalità e dalle banche. In modo che dall'anno prossimo si partirà come un'iniziativa comune che si chiamerà una seconda chance, che prevede la possibilità di un contributo che la nostra banca erogherà per il tramite della palestra Maddaloni, che ne gestirà l'affido di questi ragazzi che hanno sbagliato ma che vogliono reinserirsi nella società e quindi svolgeranno dei lavori socialmente utili. Il maestro Maddaloni, con il suo progetto rivolto prima ai minori a rischio, ora agli ex detenuti e ai disabili, sottolinea l'importanza sempre maggiore che i privati stanno avendo nel supportare iniziative come la sua. Con questo incoraggiamento, perché sicuramente uno che sbaglia nella vita non può essere incoraggiato con uno stipendio, ma perlomeno come ha fatto la banca con un piccolo internizzo, in modo che questi non possono ritornare di nuovo a dialinguere. Io credo che sia il giusto modo, il modo serio da parte della banca di aiutarci. A suggellare il patto, l'ex procuratore capo di Napoli, attuale presidente dell'osservatorio antica morla di Scampia, Giovanni Domenico Lepore. Come i privati riusciamo a ottenere qualche sovvenzione per dare un minimo almeno di soldi a questi ragazzi che stanno in affidamento al servizio social, che sbocano dei servizi che naturalmente la sera quando vanno a casa debbano andare a mangiare dei figli o mangiare lo stesso.